Gesù Cristo, buongiorno e buon sabato santo 30 marzo 2024. Ringraziamo Dio del dono di questa giornata e del suo amore che dall'eternità entra nel tempo. Come per il momento della incarnazione, la nascita del Figlio di Dio, la sua morte, la sua resurrezione, che festeggeremo domani, non sono avvenute per Lui, ma sono avvenute per noi. E dunque si tratta di un'iniziativa gratuita, non dovuta, un desiderio del suo cuore per la nostra salvezza. Entrare in nel suo amore è tutto nostro interesse. Essere indifferenti, fingere che Gesù, il Verbo Eterno, non si sia incarnato, non sia morto per amore e non sia risorto e presente nel mondo, va a tutto danno nostro. Lui non ci rimette niente, ci rimettiamo noi. Se il mondo credesse di più, se il mondo si affidasse di più a Dio, non avremmo guerre, avremmo pace e anche il nostro povero cuore sarebbe più forte, più sereno. Affidiamo questa giornata ricevuta da Dio alla protezione della sua madre, perché Gesù è figlio di un essere umano, Maria, ma è anche figlio di Dio nell'eternità. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno Gesù. Santa Maria, madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno Gesù. Santa Maria, madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno Gesù. Santa Maria, madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno Gesù. Santa Maria, madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno Gesù. Santa Maria, madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno Gesù. Santa Maria, madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno Gesù. Santa Maria, madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno Gesù. Santa Maria, madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno Gesù. Santa Maria, madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Come era in principio, ora è sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Per tutti i defunti, soprattutto le persone innocenti, nelle guerre e nelle violenze di questo mondo, l'eterno riposo dona loro, Signore. Splendati la luce perpetua, riposino in pace. Amen. Leggo la seconda parte di una meditazione fatta da Don Dolindo Ruotolo. La prima l'avevo letta ieri. Nei deprecati tempi del modernismo si tentò di sminuire la grande testimonianza d'amore di Gesù nella sua passione. Ma le cervellotiche asserzioni vennero smentite dallo studio curato sulla Sacra Sindone, dopo che fu possibile fotografarla nel 1898. Lo studio scientifico condusse alla più luminosa conferma del racconto evangelico. Stando all'accurato esame che se ne è fatto, il capo di Gesù fu coronato da una calotta di spine che lo trafissero, perforando le vene e le arterie, senza molta lacerazione esterna, ma con molta penetrazione interna. La corona di spine ferì maggiormente il capo nella parte posteriore e propriamente nella zona della nuca. Questo ci fa intendere che Gesù fu crocifisso con la corona di spine e fu crocifisso a terra. Il peso del capo e i colpi del martello che lo fecero rimbalzare sul tronco laterale confissero penosamente le spine in tutta la zona posteriore del capo. Si riscontrano maggiori grumi di sangue a sinistra, il che ci può far supporre che Gesù, nell'essere crocifisso, aveva il capo rivolto al cielo, inclinato l'indietro e sul lato sinistro. I rigagnoli di sangue lasciati dalla corona di spine sul capo del Redentore e impressi nella sindone confermano in modo irrefutabile che egli fu crocifisso con quella corona, perché se gli fosse stata tolta, il sangue si sarebbe fuso in un unico ammasso. La guancia destra risulta notevolmente gonfiata per i colpi ricevuti, il volto sfigurato dalle percosse e dagli sputi. Anche le labbra risultano gonfie. La spalla destra, in confronto della sinistra, è piuttosto abbassata, con solchi e ferite prodotte da schiacciamento di un corpo pesante, testimonianza della croce da lui portata su quella spalla, del peso di circa un quintale. Su quella spalla si era formata una dolorosissima piaga. Solo chi non ha visto la sindone potrebbe dire che i colpi della flagellazione furono limitati. In realtà, il corpo di Cristo era tutto astriato di colpi crudeli e di piaghe, cominciando dal petto, ventre, mani, fianche, gambe, dietro la schiena, reni, muscoli del bacino. Tutto risulta assolcato da innumerevoli ferite, alcune delle quali, specialmente quelle sulle cosce, sono disposte a ventaglio. Queste ferite si intrecciavano, si incrociavano e si sovrapponevano, in modo da non lasciare parte sana e da testimoniare che i colpi erano stati innumerevoli e rinnovati uno dietro l'altro. Tra le pieghe spiccavano e spiccano tuttora sulla sindone, a due a due, ferite di tre centimetri di lunghezza, inferte con straordinaria ferocia. Se ne contano circa ottanta e corrispondono ai quaranta colpi dati col flagello romano, che aveva due palline di piombo, riunite da una corta sbarra, dove si attaccava la striscia di cuoio che portava all'impugnatura. Il flagello aveva due strisci di cuoio e non solo strappava la pelle, ma lacerava i muscoli e scopriva le costole e le ossa. Gesù non aveva ricevuto soltanto i trentanove o quaranta colpi stabiliti dalla legge. I carnefici si erano accaniti sopra di lui fino a formargli veramente una veste di sangue. Così apparve sul Calvario nella sua nudità e così fu crocifisso. Quale cuore, specialmente quale cuore di peccatore, non si spezza pensando a tanti dolori inauditi? E quale cuore non si fiammerà d'amore pensando all'amore infinito che Gesù Cristo ci ha portato? Come si può continuare a vivere ignorando questo dono di amore? Riflessione del sacerdote Dolindo Ruotolo ora dichiarato servo di Dio. Sentiamo i santi di oggi Il santo del calendario è San Amedeo perché quello del libretto è il sabato santo è scritto. Sì, sì, il santo Amedeo è vero. Dato che tanti si chiamano tanti, più di una persona da noi conosciuta, almeno da me, ma anche da voi, penso, porta questo nome che è un bel nome che significa ricevuto da Dio, dono di Dio, è la stessa cosa come significato che il nome Giovanni. Amedeo e Giovanni hanno lo stesso significato. anche Giovanni vuol dire dono di Dio. Speriamo di essere anche noi, anche se non portiamo questo nome, un dono di Dio per gli altri. con questo io termino la preghiera e vi do appuntamento anticipando l'augurio pasquale. Ci sentiamo già domani, giorno di Pasqua. Sia lodato Gesù Cristo. Sempre sia lodato. Forza Lilia, non devi dire l'arba. Ho visto, ce ne sono pochi però presenti, lo dico lo stesso? Parlo lo stesso? Non è importante, pochi e tanto. Va bene, va bene. Allora, oggi vi parlo di un'altra pianta, si chiama Equiseto, ha notissime proprietà, rimineralizzante, diuretica, antinfiammatoria, può sugli ematomi, l'impacco di questa pianta, Equiseto, fa assorbire l'ematoma, diciamo velocemente, più velocemente, che non le solite pomate. Quindi, se qualcuno è interessato, che si chiuderemo, è andata di unicamente, che non sia un paio. E un'altra pianta, che se chiuderemo, qual è l'amore, Ma le solite, è andata di un paio. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.